Lunedì 3 aprile del 2023, buongiorno a tutti voi, ben ritrovati da Manuel, partiamo con la nostra sigla Bentrovati ragazzi, bentrovati a tutti voi Allora, non ci possiamo lamentare, non ci possiamo lamentare Chi ha visto i video di ieri e dell'altro ieri, nel primo video avevo detto che la partita di Monza sarebbe stata molto 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 impegnativa Molto molto pericolosa, piena di insidie E nel video di ieri avevo fatto tutte delle varie proiezioni su come la Lazio avrebbe potuto modificare la propria classifica in base al risultato suo di Monza e degli altri Alla fine ragazzi, non ci possiamo proprio lamentare Eccezione fatta la vittoria clamorosa del Milan a Napoli 4-0, Milan che si porta al terzo posto, Lazio che allunga E va a più 4 dalla terza in classifica Non vi nascondo che mi è dispiaciuto moltissimo un piccolo particolare Poca, pochissima visibilità alla Lazio Ad esempio, ho visto la domenica sportiva, si parlava di Inter, si parlava di Mourinho I difusi che gridavano Zingara stanco e poi i razzisti si è accolita alla Lazio Vabbè, ma non voglio cadere in queste banalità A Lazio pochissimo spazio, pure a rima Ma non mi interessa, la Lazio è là, al secondo posto, contro tutto e contro tutti Una Lazio brava, bravissima, tonica, intelligente nel rallentare, nello studiare l'avversario, nel decidere di affondare il colpo Una Lazio brava e brillante nel sapere attaccare al punto giusto E poi ragazzi miei, mamma mia che difesa Organizzazione difensiva clamorosa della Lazio Difende con una semplicità clamorosa Ieri, poi, proprio con l'atteggiamento è quello corretto Ieri nel raccontare la partita c'è stato un momento Nel secondo tempo Scusate, sì, nel secondo tempo In cui ho proprio... c'è stato un movimento di Felipe Anderson Che è andato proprio a descrivere l'essenza della marcatura intelligente Della marcatura cosiddetta preventiva Vi faccio un esempio C'era Ciurria che ha ricevuto palla, ok? Che fa? Io mi aspetto che Felipe Anderson va addosso a Ciurria per impedirgli il passaggio No! Felipe Anderson è andato dietro a Ciurria Vedendo un compagno del Monza che poteva ricevere potenzialmente palla Felipe Anderson è andato a chiudere la linea di passaggio E poi è arrivato Cataldi a raddoppiare su quell'altro Da scuola calcio Da scuola calcio Quindi brava Lazio Vittoria meritata Una Lazio che ha saputo gestire le insidie E questo campionato ci ha imparato che è pieno, pieno Seppo di insidie Quindi brava, bravo Lazio Prendiamoci questa vittoria importantissima Perché come voleva si dimostrare La Lazio si sta mettendo nelle condizioni Si è messa nelle condizioni Di rimanere seconda in classifica Anche a sole nove giornate dalla fine Quindi cosa sto dicendo? Che nel peggio dei casi La Lazio perde la prossima partita in casa E il Milan va a vincere La Lazio comunque sempre seconda in classifica rimane Ma che vuole più? Cioè parlavo poco fa con un mio amico della Lazio Che mi diceva Ma se ce l'avessero detto inizio campionato Ti ritrovascio a dieci giornate dalla fine Seconda in classifica con quattro punti dalla terza Ma quando mai? Ma quando mai? Quindi brava, brava Lazio Provedel Passiamo alle pagelle Provedel sette e mezzo Fa una parata prodigiosa Soll'uno a zero Dove salva il risultato su Petagna Bravo, bravo Grande, grande Provedel Ragazzi, Romagnoli Questo giganteggia Giganteggia sempre di più Sette e mezzo È il leader In contrastato di questa difesa Casale sette Un pochino di meno Perché Ha fatto qualche piccola sbavatura Però Ragazzi Casale Se prende i sette in pagella Giocando col filo di gas Perché pure ieri Casale Non è che abbia fatto tutta sta partita molto impegnativa Nel senso Bravo lui Brava tutta l'organizzazione difensiva Gli ha messo in queste condizioni Usai Sette Pellegrini sta in panchina Usai si sta strameritando Il posto da titolare Perché sta disputando Assolutamente la sua miglior stagione in carriera Quindi va bene così Lazzari Sei Vi dico la verità Mi aspettavo di più da Lazzari Vi posso dire la verità Mi aspettavo di più da Manuel Lazzari Non lo so Non mi ha convinto in pieno Non mi ha convinto in pieno L'ho visto andare ogni tanto in affanno Anche in fase propositiva Non l'ho visto Travolgente come l'aspettavo io E quando parlo di analisi Sull'offensività di Lazzari Mi riferisco alle frazioni di campo Di gioco in cui la Lazio Ha deciso di affondare i colpi Quindi vi parlo potenzialmente di 20-25 minuti In una partita da 90 Capito? Non mi aspettavo di più Cataldi Sette e mezzo Ragazzi Lo sapete Lo critico Per me non è quello il suo ruolo Non è un giocatore Che può fare il titolare Nella Lazio Ma ieri Quanta sostanza Ci ha messo Quanta sostanza Interdizione Ha fatto tutto Bravissimo Cataldi Luiz Alberto 6 e mezzo Ero tentato di dare il 7 Pure a lui Però ragazzi miei Luiz Alberto Va bene così Si arrabbia quando esce Vuol dire che ci tiene È ormai calato pienamente Con la testa pienamente Nella Lazio Quindi davvero Applausi per Luiz Alberto Milinkovic 7 e mezzo A parte il gol Meraviglioso che ha segnato Che ai molti Ha riportato indietro Al famoso 2000 Al gol di Verona Nel derby Sotto alla sud Però Milinkovic Un primo tempo Da 6 6 meno Dopo il gol Si è visto proprio Che ha fatto un'altra partita È andato in scioltezza E ha cominciato a rubare palla A costruire gioco Quindi bene così Milinkovic È importante per il murale Oltre che per i punti Che ci ha regalato Col 2 a 0 Per la tranquillità Soprattutto Zaccagni A Zaccagni do 8 Migliore in campo Perché Supera l'uomo Sistematicamente È sprintoso Ci ho pensato un attimo Perché ero indeciso Tra lui e Pedro Però sapete che A me i gol Non incitono Nella pagella E quindi Zaccagni 8 Perché è quello Che è sicuramente Il più in forma Della Lazio In questo momento E non c'è dubbio Non c'è proprio dubbio Sul fatto che sia Il migliore Quello più in forma Della Lazio Raga Sistematicamente Salta l'uomo In tutti i modi Non c'è niente Da fare ragazzi Non c'è niente Da fare Quindi assolutamente È l'incognita Impazzita della Lazio In senso positivo Felipe Anderson Raga Solo perché ho deciso Di dare Il premio Di migliore in campo A Zaccagni Ma Felipe Anderson Ma che vuoi dire Felipe Anderson Cosa gli vuoi dire A Felipetto ragazzi Cosa gli vuoi dire Cosa gli vuoi dire A livello tattico È disarmante È determinante Forse a livello tattico È il giocatore più importante Che c'è nella Lazio Deve giocare sempre Ecco perché È il giocatore in Europa Che ha giocato più partite consecutive 66 se non sbaglio Ve ne rendete conto 66 partite consecutive Giocate da Felipe Anderson Andiamo a Pedro 7 e mezzo Pedrito Il gol Bravo Per una serie Di cose fortuite Si ritrova lì E la mette dentro Raga Lui gioca con la classe Ripeto Lo dicevo nel video Di ieri mattina Giocando adesso Una partita Solo a settimana Pedro si gestisce Fa bene Quindi davvero Applausi Applausi A Pedro Così può fare Anche il titolare Sarri 9 9 Perché ha tenuto Sulla Lazio L'ha tenuta Sarebbe stato 9 e mezzo Ma vi dico una cosa Che vi racconterò Nel video di domani mattina Sarebbe stato 9 e mezzo Ma gli do 9 Bravo Perché ha tenuto Su di corda La Lazio Bravo Nella gestione Della partita L'ho visto Cazziare Milinkovic Sul 2 a 0 Per la Lazio A 10 minuti Dalla fine Perché non era riuscito A legare Alla difesa Col centro campo E se l'è magnato Sarri Rincorrendolo per il campo Questo vuol dire Avere fame Vuol dire avere fame 9 per le bellissime parole D'amore Nei confronti Della Lazio 9 Perché ha gestito In maniera divina Ciro Immobile Perché ha dimostrato Di aver preso Insegnamenti Di aver tratto Insegnamenti Dalla precedente Gestione Di Ciro Immobile Che aveva mandato In campo In fretta e in furia Per poi avere Un immobile Impalpabile Per un mese Prima di vederlo Leggermente in forma Quindi assolutamente Bravo Bravo Sarri Domani Nel video di domani Vi spiegherò Perché gli ho dato Mezzo voto e meno Ciao a tutti Buona giornata Ciao a tutti Grazie a tutti.